Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il video del lunedì, video delle analisi grafiche dei mercati finanziari. Abbiamo fatto due giorni fa sabato, ragazzi, il video dell'analisi di lungo periodo per la ciclica di Bitcoin, che è stato una bomba. Io vi ringrazio per il grande apprezzamento che avete dato relativamente a quel video, quindi intanto grazie da parte mia. E' un video sicuramente di grande contenuto perché analizziamo i mercati e le criptovalute da un punto di vista di analisi di lungo periodo. E questo è ovviamente un'analisi molto molto più impegnativa, molto più bella anche da vedere perché ci sono le prospettive di quello che sarà poi il lungo periodo. Oggi invece andiamo a fare le analisi dei cicli di breve, breve relativamente, un mese ragazzi. E andiamo a guardare anche altri mercati nel video di oggi, infatti andremo a vedere l'escalation che sta avendo l'S&P 500, quindi il mercato dell'indice americano più importante di tutti. Poi andremo a guardare anche il nostro indice, torniamo sul Fuzzimip Italia, ragazzi. Cosa sta facendo? Perché tra un po' dovremmo essere in fase 2 anche relativamente alla pandemia in Italia. Vediamo se ci sono delle occasioni, vediamo se il Fuzzimip Italia sta dando delle indicazioni positive e andremo a guardare anche il grafico del BTP italiano per capire se effettivamente quello che è stato la riunione in Europa ha dato fiato al nostro titolo di Stato che come sapete bene è legato a quello che poi potrà succedere ad esempio alla struttura economica italiana, se reggiamo o no, se il debito è sostenibile nel tempo e quant'altro. Come vi ho più volte detto, se i mercati pensano positivamente, ecco quello che è stata la riunione europea, i famosi recovery bond, e se questi sono accettati dal mercato, visti positivi da un punto di vista dell'economia italiana, avremo un grafico che sul BTP tenderà a salire. Ma bando alle ciance, come si vuol dire, volevo anche ricordarvi che il 29, cioè dopo domani, ci sarà la mia masterclass ragazzi su XTB alle 16 del pomeriggio circa, parlerò di come utilizzare sistemi di trading, i trading system in generale, per avere una mano in più bionica ragazzi, vi ricordate Robocop? Una mano in più bionica per operare sui mercati con un aiuto, con questi trading system che possono indicarci una strada migliore per prendere le nostre decisioni ragazzi, quindi non utilizzarli con i paraocchi, ma come utilizzare alcuni dati, alcune analisi dei dati per fare trading sui mercati non criptovalute, in questo caso valuteremo anche mercati degli indici di borsa, sapete che non uso i CFD per le criptovalute, quindi quando faccio una masterclass su un broker CFD preferisco fare solo operazioni sugli indici di borsa o magari commodities ragazzi, ma non cripto in questo caso, quindi parleremo di questo nella masterclass. Vi lascio in descrizione il link per registrarvi e noi ci vediamo mercoledì per chi di voi vuole partecipare, contentissimo di fare questa mia apparizione. Ora mi sposto sui grafici e prima di farlo vi devo chiedere una cosa ragazzi, io lo so che ve lo chiedo sempre, ma ve lo richiedo, anche perché oggi ho messo una maglia, trend is your friend, chi di voi se la ricorda questa maglia ragazzi? Chi di voi se la ricorda? Questa l'ho fatta lo scorso anno, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi devo chiedere questo e poi lasciatemi un pollice ragazzi, mi aiutate con questi video su YouTube. Andiamo sui grafici. Allora, dietro di me vedete un grafico di Bitcoin, quello che ho utilizzato l'altra volta, ma non è quello che guardiamo oggi. Oggi guardiamo questo grafico qui, per quanto riguarda il mercato di Bitcoin, e andiamo a vedere che da un punto di vista di analisi ciclica, il mercato ha iniziato il 16 di aprile un nuovo ciclo mensile. Ragazzi, questo ciclo mensile è in attesa di chiusura, in una fascia che adesso vi indicherò, con uno dei miei famosi rettangoli, chi di voi se lo ricorda i miei rettangoli ne ho fatti diversi, in questa area temporale ragazzi. Questa è l'area temporale di chiusura, quindi ancora c'è tempo, siamo ancora nel pieno dello sviluppo di questa fase positiva del ciclo mensile di Bitcoin, quindi tutto corretto, questa sua forza in questo momento. Andremo a vedere tra poco anche le resistenze che deve superare. Dove siamo nel ciclo mensile ragazzi? Siamo all'undicesimo giorno, quindi in pratica siamo proprio nel pieno del boom. Il mercato poi ha indicato una fase così sviluppata, vedete, uno e poi questa fase qui, quindi probabilmente dovremmo assistere a una fase di chiusura fatta in questo modo per quanto riguarda la metà del ciclo. Adesso facciamo una cosa ragazzi, vi provo ad ingrandire il grafico, così si vede meglio anche nel video, e vi faccio capire. Probabilmente il ciclo mensile avrà una sua metà, quindi una sua chiusura da metà ciclo, in questo modo, in versione ternaria. Vedete, uno, due, e probabilmente farà una cosa del genere. Mi aspetto un atteggiamento di questo tipo, che andrebbe a fare questa sua metà intorno alla prima decade del mese di maggio. Ragazzi, quindi capite bene come questa fase è nel pieno boom della sua fase rialzista, ok? Dove può arrivare Bitcoin in questo momento? Quali sono i target di breve per il mercato? Allora, Bitcoin ragazzi, sta facendo un bel trend positivo, è una V come i mercati old, quindi S&P 500, abbiamo visto nel mio video di correlazione, che in questo momento sono molto correlati, ma che tenderanno, secondo me, a scorrelarsi tra un po' di tempo, quindi non è una correlazione duratura, ma spuria, lo ripeto ragazzi. Sembra in maniera molto chiara che Bitcoin stia facendo la stessa forma, la stessa struttura di rialzo che aveva fatto dalla prima decade di... del mese di... seconda decade del mese di dicembre fino alla prima parte di febbraio, vedete? Molto similare ragazzi, ok? Molto similare. Quindi, in pratica, nulla di anomalo in questo momento, vi dico anche francamente, io sono sempre in holding con le mie famose posizioni, che vi avevo detto, vanno in stop loss, poi sotto i 3.000 e quant'altro, e poi sono long da un po' di giorni con uno dei miei trading system, ma questa fase, come attività di trading, preferisco sui mercati criptovalute usare i trading system, ragazzi, che pubblico nella mia academy e sono visibili, perché in questa è una fase un po' complessa, quindi affidarmi completamente a quella che è una fase di position, quindi di investimento sulle crypto per tanto, tanto tempo, da qui in poi, sulle mie positioni in hold, ok ragazzi, perché quelle sono in hold, quindi sono decenni, per me sono 10 anni di investimento, non sono investimenti da qui a 2-3 anni, ma per le posizioni un po', diciamo a metà strada, da un anno a due anni, preferisco in questo momento essere flat, e usare solo system di trading, quindi vi ho detto come sto operando io da questo punto di vista, i target di medio sono 8.500 ragazzi, e poi al superamento della media 200, che in questo momento gira intorno agli 8.000, ricordatevi ragazzi, anche una cosa, e Bitcoin sta soffruendo in questo momento anche della grande forza dei mercati hold, che si andrà a vedere tra un secondo, e questo vuol dire tanto ragazzi, perché non so se i mercati hold gireranno un po' in fase di bassista, non so se i mercati crypto avranno così tanta forza di restare ancora in fase positiva, quindi in questo momento avete visto la ciclica che ci indica una fase di continuazione, di positività, siamo all'undicesimo giorno, qualche altro giorno dovremmo starci ragazzi, poi inizia una fase di pericolo, ne sto parlando in Academy, già da qualche giorno, sto dando le indicazioni su queste cose, e poi la close è stimata ancora lontana, quindi insomma c'è tanto tempo, da un punto di vista di target di analisi tecnica, 8500 resta un target plausibile, fattibile, ma già dagli 8000 ragazzi, inizia una fase in cui Bitcoin dovrà poi indicarci, perché da qui vedete dove è adesso, in poi questa fase, è una fase di possibile massimo ragazzi, poi chiaramente i mercati delle crypto possono fare quello che vogliono, però valutiamo in corso d'opera, spostiamoci sul mercato del nostro S&P 500, vediamo dov'è, così vi faccio vedere, S&P 500 ha chiuso il suo ciclo mensile, vi avevo accennato la possibilità che l'S&P facesse l'acchioloso del mensile intorno al 24, l'ha fatta il 21 di aprile, ed ha iniziato questi 4 giorni, vedete, di rialzo, che sono andati, stanno adesso testando il massimo, a 2890 punti, circa, lo supererà? Secondo me sì, secondo me sì, perché se siamo in un nuovo ciclo mensile, tecnicamente ragazzi, anche qui vi faccio capire, la fase di questo ciclo dovrebbe andare a chiudersi, nella settimana di maggio, quindi sempre dalla 15 maggio, alla fine di maggio, quindi questa è la zona di close di questo ciclo mensile, probabilmente S&P è iniziato un nuovo ciclo annuale sul minimo di marzo, quindi ragazzi, semplicemente, probabilmente, questo mensile sarà positivo, quindi, in sostanza, dovremmo assistere, vi faccio capire, a un break di questi 2009, almeno in quest'area, adesso vedremo anche eventuale area, per poi fare una close del genere. Mi aspetto un atteggiamento di questo tipo, per quanto riguarda il mercato hold, se non romperà i massimi del ciclo precedente, entro pochi giorni, iniziano ad esserci problemi, e adesso andremo a vedere, intanto vediamo se questo rialzo appunto verrà confermato, il primo livello di resistenza è lontano, perché è intorno ai 3000 punti ragazzi, quindi non so se il mercato, riuscirà ad arrivare addirittura a questi livelli di prezzo, mi sembra un po' veramente molto alto, però, insomma, potrà tranquillamente fare magari un nuovo massimo, tentare magari di avvicinarsi lì, eccetera. Questa è una fase positiva per i mercati hold, è una fase positiva e va valutata così ragazzi, però poi sui mercati hold dobbiamo fare i conti con la realtà, perché è l'analisi fondamentale che in questo momento ci ha lasciato sul campo praticamente ragazzi, tutto, perché ha sbagliato totalmente l'analisi fondamentale, perché l'analisi fondamentale in questo momento ragazzi, ci indica un'economia distrutta dalla pandemia, e avete visto invece che i mercati hanno reagito in maniera forte, molto forte, proprio perché l'analisi fondamentale è eternamente fuori tempo, e questo è il grande problema, però va considerata, quindi se l'analisi fondamentale poi sarà effettivamente confermata nel lungo periodo, questi prezzi ragazzi, per quanto riguarda S&P 500, sono troppo alti, questo è il problema, quindi a un certo punto stampa uno stampa di moneta, il mercato convergerà verso quello che è l'indicazione dell'analisi fondamentale, cioè di un'economia in forte crisi, in forte recessione, però questo lo valuteremo, magari faccio un video a parte ragazzi, perché è un argomento troppo complesso da valutare in un video di analisi, andiamo quindi a capire in definitiva, S&P 500, nuovo ciclo mensile, può rompere assolutamente i massimi, siamo in pieno della fase di sviluppo, solo in 4 giorni, se non rompe questi massimi, entro questa settimana ragazzi, iniziamo a preoccuparci, ma lo vedremo in un prossimo video ragazzi, iscrivetevi al canale se volete seguirmi, in questi processi di analisi, andiamo a vedere Fuzzimib velocemente e anche poi il BTP, per capire cosa è successo dopo l'Eurogruppo, diciamo dopo la riunione dell'Europa, se il mercato ha apprezzato meno questa soluzione, allora intanto guardate l'S&P, scusate il Fuzzimib Italia, questa è l'Italia, guardatela, ha chiuso anche lei il mensile, ma guardate la debolezza ragazzi, rispetto agli Stati Uniti, guardate la debolezza della nostra economia, costantemente, diciamo così, e pensare che lo scorso anno siamo stati una delle migliori borse del mondo, come risalita ragazzi, peccato veramente, peccato veramente, allora andiamo a vedere che è stato chiuso il ciclo mensile, ancora una volta per Fuzzimib Italia, il 21 di aprile, e adesso siamo nel secondo ciclo mensile, ancora una volta dobbiamo vedere l'Italia andare a fare un unbreak, di quello che è il massimo che è stato fatto qualche giorno fa, cioè il massimo che è stato fatto intorno all'8 aprile, vedete, intorno a 17.900 punti, questo dobbiamo attenderci, lo può fare, sì ragazzi, lo può fare, perché siamo nella prima parte del ciclo mensile, però è anche vero ragazzi che l'Italia è molto debole in questo momento, quindi una fase long italiana la vedo proprio sopra questo livello, sopra i 17.900 vedo una fase long italiana, che avrebbe spazio ragazzi, perché vedete, poi non ci sono livelli di resistenza sul mercato, il primo livello di resistenza è intorno ai 19.500, quindi è lontanissimo ragazzi, perciò un'eventuale fase di break secondo me darà molto fiato alla Fuzzimib Italia, e al recupero italiano, e significherà anche che noi siamo usciti da una fase 2 in maniera molto molto più tranquilla, di quello che si pensava, quindi con la macchina in movimento, oggi facciamo più 2.50, quindi il mercato sta prendendo bene questa prima giornata di questa settimana, quindi prende bene le notizie dell'uscita della fase 2, in generale tutti i mercati stanno correndo. Andiamo a vedere quello che invece è stato il future sul short term del BTP italiano, ragazzi vedete palesemente la reazione, allora il BTP italiano ragazzi è dopo l'Eurogruppo, vedete il 23 dopo la riunione dell'Europa ha iniziato la fase di ripresa, sta salendo, quindi questo è un'indicazione palese, molto chiara, del fatto che i mercati finanziari relativamente al debito italiano hanno preso molto bene la notizia del recovery fund, e stanno, ancora non hanno i numeri ragazzi, però stanno iniziando ad acquistare, questo significa che si aspettano delle notizie positive, se queste notizie positive verranno confermate dai recovery fund, magari anche meglio delle attese, allora continuerà a salire probabilmente il nostro future sul BTP italiano, e questo sarà una notizia positivissima anche per il nostro indice. Se invece i numeri del recovery fund, che sapremo nella prima decada di maggio, non saranno positivi ragazzi, non come i mercati si aspettano, probabilmente ci sarà volatilità su questo mercato, quindi tutto ora sta a capire quello che deciderà la commissione, a quanto ho capito, per quanto riguarda questo abbilanciamento fra prestito relativamente al recovery fund, e sovvenzioni, anche alcuni tedeschi in questi ultimi giorni hanno detto che l'Italia ha bisogno di sovvenzioni, ieri il presidente Conte ha detto nuovamente che l'Italia ha bisogno di sovvenzioni, e non di agire sul nostro prestito. Vedremo ragazzi, vi faccio rivedere il grafico, questa è l'indicazione. Qual è un livello importante? La rottura di questo livello 112, a questo punto l'Italia ritornerebbe praticamente al pre-crisi, la sua struttura dei titoli di Stato, ragazzi, sopra questi livelli, vedete, tornerebbero a uno stato di pre-crisi, cioè come se noi avessimo completamente annullato l'effetto della pandemia sui nostri titoli di Stato. Bene ragazzi, allora chiudo perché questi video sono sempre molto lunghi, sono tante cose da dire sui grafici, io vi ringrazio, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e lasciatemi un like, noi ci rivediamo domani perché c'è un video super ghiotto che ho pronto da un sacco di tempo, ma non trovo il giorno per pubblicarlo, lo pubblico domani. Quindi, attenti, sincronizzati, sintonizzati sul canale Trading On. Ciao a tutti, buon inizio settimana.